la prendono con noi e lo sa coleghi ciao che succede? non sapete niente? no no l'appuntato Grimaldi è morto no ma vedi che è assurdo com'è morto? al posto di blocco perchè adonaci dieci giorni fa stessa sorte dai è assurdo pure il tuo poverino pure lui è morto come è morto? al posto di blocco pure lui perchè? e lo sud ve lo siete dimenticati due anni fa la stessa cosa al posto di blocco al posto di blocco stessa cosa al posto di blocco al posto di blocco le corne di blocco è sempre se sa no adesso